Bene, commentiamo l'ultima parte del secondo capitolo dei Promessi Sposi, che è quello che vede in campo a questo punto che ci presenta la figura di Lucia. Questa seconda parte, dopo che abbiamo lasciato Don Abbondio a letto, con tutte le sue paturne per la testa, malato, non c'è per nessuno, Lerenzo che è diventato consapevole di qual è a questo punto il suo nemico, avversario, dell'oppressore che aveva ostacolato tutto quello che era nei suoi progetti e tutto quello che doveva in qualche modo cambiare la sua vita nel giorno o dal giorno delle nozze. Lerenzo ovviamente ha tutta una rabbia in corpo e a questo punto troviamo questa riflessione che vi ho proposto all'inizio, secondo me che è la chiave anche del capitolo, insomma che è una delle chicche che troviamo su Promessi Sposi, quella riflessione di Manzoni che dice, la ripeto, i provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualche modo fanno torto agli altri, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. La spiegazione l'abbiamo già data in qualche modo all'inizio e non la ripeto. Ed è con questo pervertimento che Lerenzo se ne parte dalla casa di Don Abbondio e per andare a casa di Lucia, pieno di propositi vendicativi, insomma, no? Sono quei propositi che tirano fuori gli stinti peggiori di noi in un determinato momento, quando prendiamo coscienza di un soppruso. Ed è il momento in cui vorremmo lasciarci andare all'istinto, all'istinto di aggredire, di ammazzare, insomma, di una vendetta feroce nei confronti dell'oppressore di chi ci ha aggredito. È il primo impulso, è un impulso, diciamo, riflesso, nel senso che non prevede l'intermezzo, il ruolo della ragione, della riflessione. Ma è per questo che, insomma, uno si dice sempre, no, prenditi sempre del tempo, ragionaci su prima e poi vedi la reazione migliore per come affrontare quello che ti è successo, il malanno che ti è capitato. A volte prenditi una notte, no? Rifletti su quello che ti è successo e poi cerca la risposta migliore, no? Perché la risposta migliore non è sempre quella impulsiva, quella immediata. La risposta, diciamo così, riflessa. Quello che avviene nel sistema nervoso, quando ha uno stimolo, segue una risposta automatica. Ecco, l'automatismo non è sempre la migliore delle risposte. Molte volte lo è, invece, nel corpo umano, insomma, no? Se mettiamo una mano nel fuoco e la risposta automatica è quella di tirarlo via, insomma. Quindi serve per salvarsi la mano dall'essere ustionata. Ma non è sempre così con i fatti della vita. Allora, insomma, medita, insomma, e seguiamo, no? In questo capitolo le sue meditazioni, poi si va in detta, appostarsi, ammazzarlo, aspettarlo, insomma. Ma le cose molto... qui si leggono, si ascolta le leggenze. Non sto lì a leggervele. La cosa interessante è che comunque a questo punto interviene qualcosa che lo frena, la ragione. E la ragione che protegge Renzo è la consapevolezza di essere... di non essere solo, cioè di aver subito un male, ma di essere integrato in una comunità, per quanto piccola. E che quindi la sua risposta vendicativa, irrazionale, che poteva essere, insomma, quella di rispondere al male con il male, con la vendetta, avrebbe potuto poi procurare danno agli altri membri della comunità, soprattutto a Lucia. Si frena in questi propositi. La mente, la ragione, interviene a proteggerlo da una reazione inconsulta. È questo che è importante capire in Renzo. Che Renzo ha alle spalle una piccola comunità, che gli vuol bene, nella quale le sue azioni non sono indifferenti. E quindi con questa comunità è giusto che lui si confronti prima di fare qualcosa che può avere delle conseguenze per tutti, e anche per la sua immagine all'interno di questa comunità. Riflette. E in questa riflessione vediamo comparire Lucia. Perché la prima domanda che si fa è E Lucia, appena questa parola, dice il Manzoni, si fu gettata attraverso di quelle bieche fantasie, no, di quelle fantasie di vendetta, bieche, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di Renzo entrarono in folla. Ecco allora che ritrova, invece che le cose peggiori di si stesso, ritrova le cose migliori di se stesso, del suo animo, che entrano, a questo punto entrano a guidare la sua condotta. E quali sono queste cose? Si rammentò degli ultimi ricordi dei suoi parenti, ecco, la comunità, no? Si rammentò di Dio, l'aspetto religioso, no? Immanente sempre nei promessi sposi. Della Madonna, dei Santi. Pensò alla consolazione che tante volte aveva provato di trovarsi senza delitto. Cioè alla cosa bella che era il fatto di essere puro, di non aver mai commesso delle cose cattive, diciamo, no? E lui stesso aveva provato orrore al racconto dell'omicidio, no? La sua sensibilità, il suo sentimento, era stato educato a provare orrore di fronte ai racconti di omicidio. Quindi, insomma, lui aveva una sua moralità, insomma, aveva acquisito questa sensibilità per cui condannava gli altri che ammazzavano e non avrebbe voluto quindi razionalmente fare anche lui una cosa del genere. E quindi si risvegliò da quel sogno di sangue con il spavento rimorso. È come se tutte queste proposite di vendetta che aveva avuto un attimo prima fossero stati quasi un sogno, no? Sogno di sangue, un sogno in cui ammazzava tutti quelli che gli capitavano a tiro, ma soprattutto Don Rodrigo, ecco. A questo punto è come se non sogno e si risveglia con spavento. Altro, no, ricordate il sogno iniziale, insomma, no? Quello a cui si risveglia Don Abbondo all'inizio del capitolo e qua anche Renzo a questo punto vive tutti questi suoi propositi che non sono proprio in un sogno, perché è sveglio, no? Ma è come se fossero stati un momento in cui la coscienza si era alleggerita, insomma, e quindi in quella fase pre-ipnotica, insomma, in cui era quasi in un sogno. E lo vede come qualcosa che non gli apparteneva, insomma, no? Come i sogni in realtà, sì, ci appartengono, ma li sentiamo anche diversi da noi, insomma, no? Quando ci svegliamo, insomma, ma come ho potuto, come sono potute succedere quelle cose nel mio sogno, insomma, non le capiamo se poi non andiamo, insomma, con un metodo psicanalitico, insomma. E quindi si risvegliò da quel sogno di sangue con il spavento rimosso di incolpa e insieme con la soddisfazione, dice Manzoni, e insieme con una specie di gioia per non aver fatto altro che immaginare, perché è consapevole che non era che un sogno, cioè non ha fatto quello che si immaginava che avrebbe potuto fare. Ed è il pensiero di Lucia, qua viene fuori anche l'amore, no? L'amore degli umili, insomma, cioè il pensiero dell'altro quando si agisce, quando si pensa a un'azione, no? La presenza dell'altro nel determinare i nostri atti, no? Questo pensiero di Lucia, quanti pensieri tirava con sé? Cioè, lo collega a tutto il mondo di Lucia, tante speranze, tante promesse, un avvenire, un futuro così vagheggiato, così desiderato, considerato come sicuro, cosa certo ormai era tutto fatto, e così tenuto sicuro, e quel giorno così sospirato, insomma, tutto questo a un certo punto diventa il fuoco della sua riflessione, no? E adesso a questo punto, siccome era una cosa ormai certa per tutti e due, il problema che si pone è dire come dirglielo, con quali parole dirle una tal novità, farle capire quello che lui aveva realizzato poco prima, no? E poi? Che partito prendere? Cosa fare a questo punto? Però, condividere la decisione, non più prenderla da solo, no? Che partito prendere? A questo punto che decisione prendere? Possiamo immaginare che potesse essere un prenderlo magari insieme con lei, cioè, quindi condividere questa decisione. Come poteva a questo punto farla sua a dispetto, nonostante quello che aveva proibito il Don Rodrigo? Insieme a tutto questo, questo nuovo elemento che gli si presentava in mente, come farla sua, nonostante l'ostacolo che si era frapposto, no? Gli tornava in mente un nuovo sospetto un'ombra tormentosa gli passava per la mente. Qual era? Se era successo questo, Lucia poteva avere avuto un ruolo? Cosa aveva fatto Lucia? E Lucia allora che ruolo aveva? E lui si dice no, esclude il fatto che Lucia possa avergli offerto il minimo pretesto per una passione a Don Rodrigo, no? Non lo poteva neanche pensare, era una cosa da escludere immediatamente. E allora che altre ipotesi potevano esserci? Lo sapeva? Lucia ne era informata? E quell'infame, dice, ma poteva aver concepito una passione senza che lei lo sapesse, se ne accorgesse? Avrebbe potuto spingere le cose tanto in là da arrivare a questa minaccia al prete il giorno del matrimonio prima di avere fatto quel gesto per tentarla, per portarla a non fare lei, a non volere questo matrimonio ad andare con lui. E perché Lucia non ne aveva mai parlato? Delle ipotesi secondo me giuste, insomma. che uno si fa a questo punto, no? Aveva capito che Rodrigo poteva essere mosso soltanto da un interesse per Lucia, ma l'interesse per Lucia poteva essere soltanto nato in Don Rodrigo senza che Lucia avesse avuto nessuna parte in questo interesse, gli avesse mai dato un segno, però noi non potevamo immaginare che Lucia potesse avergli dato un minimo segno perché tale era la fiducia, insomma, poi se avevamo portato le cose fino a quel punto in quel giorno Lucia non avrebbe potuto farlo, no? Ecco come entra in campo Lucia, no? Già prima è anticipata nel pensiero di Renzo, nell'immagine di Renzo. Tra poco invece vedremo che entrerà in campo fisicamente. Preso da questi pensieri Renzo cammina e sta andando verso la casa di Lucia, passa davanti alla propria casa e va verso la casa di Lucia, in fondo, al villaggio, un po' fuori e lì percepisce che c'è movimento, lo percepisce come sentì un misto e continuo ronzio che veniva dalla stanza di sopra. E la gente, ci sono i preparativi, no? Comari, le amiche, insomma, tutte le persone venute a far corteggio, insomma, a far compagnia a Lucia ad accompagnarla nei preparativi per le nonze. A questo punto però lui è disturbato, infatti Loro Mondo lo chiama mercato, no? Gli da fastidio, cioè lui vuole parlare solo con Lucia perché è successo qualcosa, ha bisogno di comunicare direttamente con lei e quindi prova fastidio da questo brusio, da queste cose che in un altro momento invece sarebbe stata un'occasione di gioia, no? Di piacere, insomma, di festa, festa. Però lui non vuole allora mostrarsi perché ha una brutta nuova da comunicare, insomma, deve parlare solo con Lucia, no? E da fastidio questo mercato lo chiama, Sentiamo la sua emotività, insomma, nel definire questo chiacchierio che viene dalla stanza di sopra dove c'è Lucia come un mercato e allora cosa fa? Cerca di raggiungere Lucia e di mandarle un messaggio. Trova una bambinetta nel cortile che ne va incontro, no? Perché lei è tutta contenta, non sa le ultime nuove. E dice lo sposo, sposo, è arrivato lo sposo, no? E lui fa stare zitta, zitta, Bettina, anzi, vieni qua, senti, vada Lucia, tirala in disparte e dille all'orecchio senza che nessuno senta, ma, appunto, nessuno deve sentire e non deve sospettare di niente, insomma, cerca di essere bravo, insomma, dillelo a lei dopo che l'hai allontanata da tutti gli altri. e dille che devo parlarle e che l'aspetto giù in modo che possiamo parlare da soli e che venga subito perché il messaggio da dirle è molto urgente, cambia tutta la scena. La bambinetta è contenta di aver ricevuto questo incarico, la fa sentire importante, no? Lietta è superba ad avere una commissione segreta, soprattutto il segreto che la fascina, no? da eseguire. Allora sale e a questo punto c'è l'immagine di Lucia, immagine molto poetica, delicata, insomma, con cui entra in scena in questo punto fisicamente Lucia. Sentiamo cosa dice Manzoni. Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa e le facevano forza perché si lasciasse vedere e lei s'andava schermendo con quella modestia un po' guerriara delle contadine facendosi scudo alla faccia col gomito chinandola sul busto e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli mentre però la bocca s'apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli spartiti sopra la fronte con una bianca e sottile drizzatura si ravvolgevano dietro il capo in cerchi molteplici di trezze trapassate da lunghi spilli d'argento che si dividevano all'intorno quasi a guisa dei raggi di un'aureola come ancora usano le contadine nel milanese intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana portava un bel busto di broccato a fiori con le maniche separate e allacciate dai bei nastri una corta gonnella di filaticcio di seta a pieghe fitte e minute due calze vermiglie due pianelle di seta anch'esse a ricami oltre a questo che era l'ornamento particolare del giorno delle nozze lucia aveva quello quotidiano di una modesta bellezza rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso una gioia temperata da un turbamento leggero quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose e senza scomporla bellezza ed ha un carattere particolare quindi lucida è tutta pronta non è bellissima una modesta bellezza rilevata e accresciuta dalle affezioni che le si dipingevano sul viso sul viso le si leggevano i sentimenti che provava ed i sentimenti che provava erano di modestia di umiltà di preoccupazione quasi come succede per le spose che sentono l'importanza di quel momento in cui la loro vita cambierà e non riescono ancora a rendersi conto di cosa esattamente c'è questa fiducia questa speranza sogno d'amore che si realizza ma nello stesso tempo la preoccupazione anche per per la loro vita che cambia fondamentalmente una gioia tenuta a freno da un turbamento leggero da una piccola preoccupazione belle queste parole placido accoramento quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose placido accoramento uno simono no placido turbamento turbamento ma a zero perché è un turbamento cioè una preoccupazione che prelude a un evento che invece dovrà essere o si spera che sarà felice no ed ha un carattere particolare ci lascia così non ci dice in cosa consiste questa particolarità forse proprio in questa stare a mezzo tra le gioie e la preoccupazione tra l'attesa per l'avvenire e la preoccupazione ancora che questo avvenire possa non essere proprio come lo si immagina ma il desiderio che invece sarà come lo si immagina a questo punto Bettina arriva da Lucia accortamente con furbizia e dice che le deve dire qualcosa Lucia a questo punto dice alla gente che l'accompagna vado un momento e torno e scese in fretta le scale avverte un qualcosa di strano e quindi ti senti in questo scendere in fretta una certa preoccupazione Lucia e lì si accorge immediatamente che Renzo ha cambiato atteggiamento la faccia mutata e anche è inquieto no non manifesta nel movimento e gli dice cosa c'è non senza un presentimento di terrore non è più il turbamento leggero che c'era prima adesso diventa un terrore è realizzato che è successo qualcosa di nuovo Renzo le dice la chiama per nome Lucia per oggi non si fa niente tutto è a monte e Dio sa quando potremo essere marito e moglie allora Lucia dice marita beh che e Renzo le racconta brevemente quello che gli è successo la mattina fa la sintesi e lei lo ascolta con angoscia Renzo non può fare a meno di nominare Don Rodrigo e lei allora arrossisce ed esclama tremando fino a questo segno il sospetto che c'era che Lucia sapesse qualcosa che aveva avuto Renzo quale parte ha avuto Lucia in quello che ha fatto Don Rodrigo ecco qui Renzo capisce che Lucia qualcosa sapeva e che non gli aveva detto niente fino a questo punto rivela di sapere qualcosa e lui immediatamente voi sapevate dunque disse Renzo Lucia è sincera fin dal primo momento non ha niente da nascondere niente da tenere segreto niente di cui vergognarsi e gli disse purtroppo ma fino a questo segno non si sarebbe immaginata neanche lei che quella piccola cosa che era successa quella tensione di cui lei si era accorta di essere oggetto da parte di Don Rodrigo potesse arrivare fino a questo punto e gli dice non mi fate parlare perché sono già stata abbastanza male io no non mi fate piangere perché parlare di questo mi fa piangere corro a chiamar mia madre a licenziare le donne bisogna che siamo soli Lucia ha un atteggiamento immediatamente pratico no diciamo è quella che nella situazione sa essere più in questa situazione almeno sa essere la più concreta la più ha capito quello che può essere stato ha capito immediatamente il messaggio di Renzo a questo punto bisogna mandar via tutta quella gente che non doveva essere mischiata in questa cosa aveva bisogno di della presenza della madre corro subito a chiamarmi a madre e poi sai che deve parlarne da solo a solo con Renzo bisogna studiare in questi tre personaggi bisogna studiare insieme con la madre con Renzo la novità che si è venuta a creare Lucia parte mente alle spalle questa cosa che gli sussurra Renzo ma non mi avete detto niente e lei si gira per un attimo e dice ma Renzo lasciami stare e da questo Renzo capisce immediatamente che il suo nome Renzo pronunciato in quel momento in quel tono da Lucia voleva dire ma potevate voi dubitare che io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri una risposta da parte di Lucia a quelli che erano i dubbi che in precedenza si era posto in qualche modo Renzo nella sua riflessione che ruolo poteva avere avuto Lucia perché non mi ha detto niente la risposta di Lucia senza che ci sia una domanda diretta potevi dubitare Renzo che io non ti avrei detto niente se non per motivi giusti e puri cioè potevi dubitare sulla rettitudine della mia condotta ed ecco che entra in campo sulla fine proprio del capitolo la madre di Lucia e Manzoni la chiama la buona Agnese così si chiamava la madre di Lucia che lei aveva notato che Bettina gli aveva detto aveva detto una parolina all'orecchio a Lucia e Lucia era scesa insomma aveva notato questa cosa strana in mezzo a tutta la cerimonia di preparazione no? aveva visto che la figlia era sparita e quindi anche lei va a vedere un po' curiosa va a vedere se è successo qualcosa di nuovo cos'è cosa c'è stato no? a questo punto c'è una cosa pratica da fare insomma no? c'è da mandar via la gente Lucia ne approfitta della presenza di Agnese che rimane con Renzo in modo che Renzo possa spiegare anche lui ad Agnese la novità e nello stesso tempo ha deciso che la prima cosa pratica da fare è trovare un pretesto per mandar via tutta questa gente che era venuta a far festa a questo punto si rimette in sesto no? deve fingere che non sia successo niente con la gente non le vuole spaventare non le vuole mettere in preoccupazione quindi accomoda l'aspetto e la voce che Renzo si era un po' rotta no? lo fa come meglio può e dice quello che era il pretesto che aveva detto anche Don Abbondio insomma di portare di portare come spiegazione il curato è ammalato e non si può sposare e quindi per Odio non si può fare niente la cerimonia è rimandata lo fa in quattro parole insomma molto rapida molto secca e saluta tutti in fretta perché ha fretta di tornare da Renzo e scende di nuovo a tutte le donne che erano venute per accompagnare Lucia se ne escono e si spargono cioè vanno in giro per il villaggio a raccontare alla gente curiosa perché tutti sono lì insomma è un giorno importante per il piccolo villaggio e vanno a dire la novità insomma la dicono a quelli che incontrano poi ce ne sono due o tre più curiose che vanno a vedere se era vera il pretesto di Lucia e vanno a vedere se il curato effettivamente è ammalato a non toccare con mano e Perpetua risponde ah un febbrone dalla finestra ha avuto l'ordine non aprire a nessuno e questa triste parola riportata alle altre tronca immediatamente le congetture no quelli che pensavano che potesse essere un pretesto una volta verificato che Don Abbondo effettivamente sta male ha un febbrone Perpetua glielo conferma non fanno altre ipotesi insomma no non ci sono altri pettegolezzi pettegolezzi che cominciavano già invece a nascere nei cervelli delle donne e della gente dice con una bella frase ma non so è ad annunciarsi tronche misteriosi nei loro discorsi quando si vuole in qualche modo lanciare un sospetto ma senza avere il coraggio di dirlo completamente no in questa fase sul nascere aspettando conferma dagli altri cominciano a di solito a partire pettegolezzi ecco questi pettegolezzi vengono smorsati sul nascere dal fatto che la constatazione che Don Abbondio è veramente malato come dice Perpetua tronca sul nascere qualsiasi ipotesi diversa che non e quindi conferma la giustificazione di Lucia Lucia dovrebbe essere la figura che Manzoni ha più studiato forse anche la più difficile da da mettere in campo perché a differenza degli altri personaggi che sono sempre dominati da da una passione che di vario tipo insomma una passione da un da un carattere no che in qualche modo ne determina il comportamento e l'azione più o meno debole più o meno forse ma insomma un carattere secondo cui si può poi comprendere l'insieme della gestione di quel personaggio Lucia come dire non ha un elemento che la determina è la più normale delle persone dei personaggi del romanzo la più normale ma in qualche modo interpreta la figura della donna virtuosa della donna normale e di una virtù normale non di una virtù eroica no la virtù del popolo segue la regola che ha la percezione del comportamento più giusto da assumere di fronte a una situazione nuova che non vuole essere né eroica né né quella che subisce in maniera che accetta la sorte anche quando la sorte le avversa cerca poi di reagire nel modo più concreto la persona che si lascia trasportare ma fino a un certo punto il suo eroismo è interiore lui c'è un carattere sensibile e fermo eppure angosciata e tremante e piena di rossore sa cosa deve fare e lo fa con estrema grazia pensando però a Renzo e anche in quella frase che dice no ah Renzo c'è la spiegazione sufficiente del suo passato silenzio dei motivi giusti e puri non mettiamo mai in dubbio la giustezza e la purezza di Lucia non ci lascia mai in sospetto questa figura no diciamo è la virtù nel suo aspetto più più normale più semplice più difficile da rendere come come la semplicità no mettiamo in musica no Mozart rendere la semplicità è la cosa più difficile no anche per chi scrive c'è qualcuno che dice che Manzoni quando ha studiato questo personaggio insomma no il personaggio che gli ha richiesto più lavoro per configurarlo insomma no è il personaggio più pensato più studiato da Manzoni Lucia Manzoni aveva in mente Desad la Giustine di Desad e ha pensato a Lucia come in qualche modo un antagonista alla Giustine di Lesad Giustine o le disavventure della virtù ha voluto fare di Lucia l'antagonista questa Giustine disavventure della virtù e ha voluto invece attraverso Lucia esaltare la virtù la virtù dei semplici delle persone umili del questo caso di una comunità contadina la virtù che si trova nella vita di tutti i giorni che non ha bisogno di esperienze la virtù che trova che trova la risposta migliore ai sopprusi che gli riserva la sorte il tu che non ha bisogno di tanta pompa né della bellezza né della ricchezza né dei gesti eroici semplicemente il saper porsi la propria coerenza la propria fede e anche la propria aderenza agli impegni assunti la fiducia che sa confermare di chi aveva riposto fiducia su di lei e la capacità anche di qualche modo di trovare la risposta ai problemi che si pongono non da sola tranne quando sarà costretta ad essere sola perché verrà rapita dall'innominato di succederà quello che succederà lo vedremo questa virtù che ha sempre di mira la giustizia la cosa buona da farsi la fedeltà la coerenza rispetto alla tragedia del male rispetto ai vari momenti del male che si rappresentano in questo lavoro dei promessi sposi in questo romanzo che è un romanzo che appunto serve farci meditare sulle varie modalità di essere di mostrarsi al mondo del male ecco Lucia è invece la figura che più ci avvicina a di quello che Manzoni intende per per bene insomma per purezza per candore d'animo è una figura sempre moderata composta quindi una figura che è stata che dobbiamo pensare che sia stata studiata in modo particolare da Manzoni cioè quella a cui abbia dedicato più attenzione nel abbozzarla e poi nel dipingerla di